Ci sono due dichiarazioni in questi giorni che illustrano il modo di fare l'atteggiamento di fondo del nostro governo sulla politica mediterranea. Una è quella che il Ministro Frattini ha rilasciato a Damasco, sostenendo che la Siria è un paese testualmente, stabile e solido, che rispetta pienamente l'esigenza di modernizzazione della propria popolazione. E questo lo ha detto il giorno stesso in cui in Siria una giovane blogger in favore dei diritti dell'uomo è stata condannata a cinque anni di carcere. E lo ha detto dopo gli eventi di Tunisi e del Cairo, come se niente stia accadendo in termini di forte richiesta democratica da parte dei popoli del Mediterraneo e del Nord Africa. L'altra dichiarazione è quella del Ministro Maroni, il quale, come sappiamo, dopo gli sbarchi di Lampedusa, con la ripresa degli sbarchi di Lampedusa, che il suo predecessore Beppe Pisano aveva peraltro previsto sulla base della fallimentare politica del successivo governo Berlusconi, ha detto che l'Europa ci sta lasciando da soli, aggiungendo con un tocco di perfidia come al solito. Come al solito? Ma come al solito invece proprio questo modo di appoggiare i regimi dispotici del Nord Africa, dandogli una sorta di assegno in bianco come stiamo facendo con la Libia di Gheddafi, con i miliardi di Euro che tutti noi contribuenti paghiamo per quel regime, o come si continua a fare nonostante tutto, nonostante tutto anche in occasione di una visita in Siria, dando piena fiducia a quello che è un regime dispotico e di fatto militare. E come al solito è anche questo modo di invocare l'Europa quando si vogliono scaricare le proprie responsabilità e invece di rifiutare l'Europa tutte le volte che Bruxelles ha espresso forti dubbi, diciamolo così, sull'accordo per il rimpatrimare che l'Italia, in violando le norme del diritto umanitario e del diritto internazionale assiglato, quando l'Europa ha manifestato sconcerto per le generosissime condizioni finanziarie concesse a un paese come la Libia, rispetto al quale l'insieme dell'Europa ha una serie di conti in sospeso, quando l'Europa, come è accaduto nel 2009, ha offerto al governo italiano di accedere alla riserva dei fondi per l'emergenza dei rifugiati, 10 milioni di Euro, che il nostro governo non ha voluto utilizzare, probabilmente perché poi andavano usati con i criteri trasparenti dell'Europa e non con le procedure che andavano un po' più per le spicce della protezione civile e rifiutando anche quando l'Europa, nei giorni scorsi, ha chiamato Roma chiedendo che cosa possono essere i bisogni da parte del nostro governo e si è sentita rispondere testualmente, ma noi non siamo la Grecia, non abbiamo bisogno dell'Europa, per poi invece andare in televisione da parte del nostro ministro e dire che l'Europa ci ha abbandonati. Insomma non si vuole capire quello che sta succedendo in queste settimane nel Mediterraneo, non si vuole far propria questa lezione e se non si capisce questo, ahimè non si capisce niente. Il Mediterraneo ha bisogno innanzitutto di democrazia, come è accaduto quando con la caduta del muro di Berlino, tutta l'Europa si è fatto carico di questi paesi che erano vicini a noi e nessuno ha continuato a parlare, come abbiamo fatto adesso a Damasco come governo italiano, di sostegno al vecchio regime sovietico. L'Europa poi deve dare una risposta in senso istituzionale, coinvolgendo in un partenariato nuovo questi paesi del Mediterraneo, come abbiamo fatto con i paesi dell'Europa dell'Est attraverso il Consiglio d'Europa o addirittura oggi fino all'Asia centrale attraverso i meccanismi previsti dall'OSCE. Invece con i paesi del Mediterraneo non abbiamo nessuna organizzazione istituzionale per la cooperazione culturale, per i programmi ambiziosi di borse di studio, per la stessa cooperazione in termini di sicurezza e militare. Abbiamo poi bisogno di sviluppo per portare lavoro e opportunità di progresso economico in questi paesi, abbiamo bisogno soprattutto di rispettare le norme del diritto internazionale e di non trovare delle scorciatoie che non fermano in modo sostenibile e durabile gli sbarchi come è accaduto con questi accordi di rimpatrio in mare, ma soprattutto abbiamo bisogno di regole e concertazione forte a livello europeo. L'Europa è un impegno giorno dopo giorno, dove bisogna assumersi le proprie responsabilità, rispettare quello che è il quadro condiviso dagli altri paesi e poi naturalmente anche chiedere e pretendere la solidarietà che è necessaria. Niente di tutto questo fino adesso è fatto e soprattutto quando parliamo del Mediterraneo occorre zero demagogia.